Io voglio la RAI qua, se superate il tappeto e mi dite a fuoco. No ma restate perché non mi frega un cazzo, mi date una mangiata a beve. Almeno mangi il beo gratis, porco Dio. C'ha fatta una lettera quel cazzo che mi ha risposto. Tu dici che può rispondere a tutti. Per forza, io si mangia, beve, gratis, i soldi nostri. Io pure stavo a casa se prendevo lo stipendio. Mi sono messo a fare i passi d'asporto per fare 200 euro al giorno. 200 euro al giorno di incasso. Buongiorno, il fotografo dice che c'è lì oggi. Cristo Radone, voglio parlare in giro a Facebook. Parlate, parlate, non cazzo nessuno. Non cazzo nella mangiata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Po estaci a tutti. Buongiorno, ciao. grazie